buongiorno a tutti e buona domenica a tutti mi sono appenacciato giustamente e mi ha fatto veramente bonifico quello 40 euro e stamattina mi voglio sentire con lui se lo meno perché lui l'altra volta non ho fatto 40 euro ieri non è di 40 euro qui ti è salutato a vita donna qui ti è fatto moderato a vita caccia